Dattemi una M, datemi una I, datemi una C, dai! Ragazzi! Bene, inizia! Eh, che sto io! Amore, sfidalo, dai! Dai, amore mio! Oh, mamma, che becchio! Dammi una! Dammi una! Ma sentite le mani! Di, di Tintalla! Di Tintalla! Dai, di Tintalla, anche tu! Dammi una! Ma, volete fare un saluto? A chi state saluto? Salutate qualcuno! Michele! Spaglieri dallo Zateco! Vuoto! Vuota te! No, ragazzi, per piacere, salvate il chiatto! Vuoto! Cioè, dategli una cosa un po' più aggressiva! Io sono la ragazza a pom pom! Non piacere, dai! Sto tifando! No, il chiatto che si fa della ragazza a pom pom! Non lo raccontiamo ai nostri figli! Ciao! Datteli! Michele, guarda Michele come si sta scattando! Buona Pasqua! Pasquetta! Feliciana! Io sto piangendo! A presto! Mi aspetta! Mi aspetta! Ahahahah! Vai, dai! Gigo! Mi aspetta! Questo è il colore, basta, spazzalo con le gambe, no questo è morbido, ma si spezza, è un colore, ci serviva un po' a scone per camminare, no l'amore è migliore, deve essere un po' a scone, non lo ha, 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 che vogliamo vedere in questa parte, bello, è il sedano, è il sedano, scarsi a parte, il colore è quello che si pitta nelle case, senti, ti faccio una video, che cazzo ci vuole, c'è il naso proprio alterato, tira questa, no vabbè, dà proprio l'incenso, che è Voi che siamo quello del salto? Amo!